Alle 23.50 di venerdì scorso 19 agosto alla sala operativa della questura di Rovigo veniva segnalata una lite tra conducenti nei pressi del centro commerciale La Fattoria. I due cittadini italiani lungo la strada proveniente da Bosaro hanno cominciato a superarsi reciprocamente fino a giungere all'altezza del centro commerciale dove una volta fermatisi e dopo aver cominciato un diverbio sono scesi dalle rispettive vetture venendo alle mani. Sono cominciati a volare pugni, uno di questi ha colpito l'avversario in volto provocando una lesione all'occhio destro che lo ha costretto a recarsi al locale pronto soccorso dove è stato curato e dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 12 giorni. L'altro conducente, l'aggressore, scappava invece verso il centro cittadino dove è stato avvistato da una volante. Agli agenti è apparso in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di bevande alcoliche ma l'uomo non ha voluto sottoporsi ai dovuti controlli. A causa del rifiuto l'uomo si è visto ritirare la patente la quale gli è stata sospesa. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Per lui è scattata quindi la denuncia in stato di libertà per guida senza partente e per lesioni aggravate. Grazie a tutti!